Sono in laboralevi, prego Ilaria. Eh sì, quello che sta... Guarda, riprendo proprio l'ultimo intervento, perché mi sembra il punto, cioè che cosa è giusto fare... Siamo genitori, ormai alla nostra età quasi tutti siamo genitori. In più io sono madre di due maschi, quindi sento particolarmente la responsabilità di cosa si trasferisce sui maschi del futuro, diciamo, a livello proprio di comunicazione e trovo aberrante dire siccome la famiglia fa poco, siccome è la rete che deve dare il segnale e dire che certe cose sono sbagliate. Quindi se la rete invece legittima queste cose, allora la cultura dominante diventa quella della rete. Questa è l'aberrazione alla quale non dobbiamo mai cedere e quindi quello che diceva il collega della verità mi sembra una cosa veramente terribile da immaginare. Sì, perché era tutto l'opposto. La posizione di Grillo... Io ho avuto tre reazioni, Giovanni, e te le riassumo perché abbiamo pochissimo tempo. La prima, tenerezza per un padre perché sei come una tigre ferita che cerca di difendere il proprio cucciolo in quel momento, all'inizio. Quindi lo vedevo e provavo una profonda tenerezza conoscendolo anche personalmente da tempo, pur avendo poi avuto problemi di disaccordo. Secondo e terzo. La seconda invece è stata invece una reazione di fastidio rispetto alla coerenza del personaggio. Non ti puoi erigere a giustizialista, manettaro, tutti in galera, vaffa, a qualsiasi cosa ti disturbi e poi arrivare ad una giustizia revolving che funziona soltanto a seconda che tocchi la tua famiglia o meno. Questo non è accettabile perché dal genitore tu devi difendere tuo figlio e io sarò la prima a difendere mio figlio pensando che non possa aver compiuto il più odioso dei reati. Terzo punto. Ma siccome c'è di mezzo il più odioso dei reati e c'è di mezzo quindi potenzialmente una vittima di uno stupro di gruppo, tu devi dire, tu giustizialista, la giustizia farà il suo corso, esattamente come diceva il professor Cazzola. La giustizia farà il suo corso che io credo alla buona fede e alla integrità di mio figlio ma mai posso dire ha denunciato, pur essendo nei tempi, con ritardo si è fatta accompagnare probabilmente era consenziente, erano dei coglioni che volevano scherzare. Queste sono cose che proprio non possono essere dette da chi ha fatto un percorso di questo tipo giudicando e puntando il dito. Nel momento in cui il dito è puntato contro di te e contro la tua famiglia, devi purtroppo far richiamo a tutta la coerenza possibile, altrimenti sei attaccabile. Piccola pausa per noi.